Ho bisogno di un aiuto di assistenza sanitaria quando non è più possibile l'assistenza domiciliare, quindi ci rivolgono a una struttura come questa. Quindi nella Staglioste abbiamo un centenario, c'è più di centenari, lo sapevo, e abbiamo gente che risiede qui da tanti anni, tanto che non si ricorda più da quanti anni sta qua. E quindi siamo qui, gli ospiti. Poi c'è il gruppo degli operatori sanitari, che sono presenti, che svolgono con professionalità il loro lavoro, sono sempre pronti alle nostre necessità, ma ne vengono perché non siamo inutanti. A questi ci sono un ingegnere, un professionale, c'è un medico, c'è un fisioterapista, insomma non ci mancano. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.